Musica Bello a tutti ragazzi qui è Pito Minnelli che oggi vi parla e oggi siamo in un nuovo video su Piran.io che è il nuovo giochino della .io e questo giochino ci ho giocato tantissimo quasi come di app.io perché ve lo dico non ci sarà più di app.io mi dispiace ma non ci sarà più perché i server da quando l'hanno fatto per il telefono laggano troppo comunque c'è mio cucino sta urlando questi sono dettagli va bene iniziamo allora direi di iniziare a chiamarci anzi vuoi favorire va bene c'è stata un'interruzione e poi non ci possiamo vuoi favorire però vuoi favor te faccio un favor amigor va bene direi di iniziare ve lo preannuncio mi scuso se laggerà perché già i server laggano di per sé vedete all'inizio però poi si risolve tutto vedete lagga tanto all'inizio poi almeno di solito me lagga all'inizio e poi adesso non lagga più ecco a me mi hanno già sterminato è normale come sia giusto normale sterminare la gente aspettate che devo cambiare la web cam perché almeno così si vede poi nella classifica ok e vedete ora non lagga più comunque la classifica è 7 ok siamo in classifica non siamo in classifica sì no io mi hanno due favori vabbè comunque il nostro obiettivo è come al solito diventare primi anche se non ci riuscire mai anche se però siamo capiti di usare anche molto molto facile direi dovremmo essere quindi però no invece insieme quindi non lo sognerei va bene il boost e il boost non capisco qual è andare sott'acqua no mi hanno preso un altro ah ecco siamo già in classifica vabbè facilissimo ho attivato questo va bella comunque ne troviamo un altro ve lo dico ragazzi questo è un giochino molto facile come di tutti quelli della diep della io volevo dire della punto io ok siamo quarti va bene ve lo dico questo giochino è molto facile entrare in classifica perché anche se qua si entra nella top 5 stranamente nella top 10 però comunque è molto facile perché nessuno ancora ci gioca tanto ad esempio come se vedete io ok devo stare attenti comunque c'è uno che ci vuole ammazzare sta venendo appresso lo so grazie del commento io ho preso un emo no c'è uno piccolo via vorrei, vorrei, vorrei fatto pensare comunque questa è una collaborazione with my come si dice cagino vabbè cugino passate sul suo canale fatti vedere perché scusate fatti vedere no vabbè si è fatto vedere va bene continuiamo a giocare non mi ricordo in che posizione eravamo però eravamo quinti o quarti se non mi sbaglio va bene ragazzi non siamo ancora in classifica normalmente ragazzi siamo morti per sempre il mouse mi sta portando a sfortuna perché ha un filo di un metro e sessanta ecco questa è una collaborazione normalmente with my cugino che usa un altro computer che non è nemmeno acceso però è normale io sono ACAB ecco va bene abbiamo il potere speciale quello del laser e quindi se incontriamo qualcuno non abbiamo problemi a ucciderlo però dobbiamo sempre attivarlo in tempo perché sennò siamo fregati siamo quinti però capitiamo sempre in server troppo facili meno per i miei gusti acchiappalo ho mangiato ok ragazzi scusate il taglio però siamo terzi siamo avanzati di tanto siamo anche belli grossi va bene poi scrivete sotto nei commenti perché scrivete sotto nei commenti s perché non so se attenzione a va bene ok grazie del commento artistico comunque scrivete nei commenti se il livello 4 è l'ultimo perché non so se è l'ultimo sì o no penso sia il quarto ok quanti bambini ci sono qua mangiare mangiare buono 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 va bene mi sa che ci ho faccio mangiare questo mi sa che ci ho il boost che buono dai sì me lo sono mangiato a livello 4 e sono ancora terzo e vabbè quelli sono a mille più punti va bene ragazzi però comunque ci siamo già che siamo terzi è un grande tagguardo oh questo è quello là di prima è rispomato ti devo mangiare però che beccavo no è mancato no ora muore è perché c'è il lag ok va bene comunque ragazzi oggi questa è una collaborazione però oggi ci sarà sempre un altro video di Piron.io che farò da solo però questa volta perché oggi non volevo fare una collaborazione con Superniki non mi andava sempre di farla con lui anche se poi oggi non lo posso vedere però comunque credo che ci saranno altri video con Superniki credo non lo so però mi sa lontani molto ok va bene ragazzi siamo secondi perché il secondo si è suicidato ok ragazzi il signor commentatore Gabriele Bisio se ne è andato perché ci sono motivi l'ho ucciso ho ucciso Bill Laden no è andato sott'acqua devo scappare ragazzi devo scappare devo scappare no questo è il busto mi sa questo è il busto è il busto è il busto dai andiamolo a cercare andiamolo a cercare ragazzi andiamolo a cercare dai dai cerchiamolo cerchiamolo perché questo è il busto non lo voglio attaccare perché lo voglio far vivere poi ho paura anche che abbia qualche cosa speciale tipo quello che avevo io prima l'electrizard comunque ragazzi scusate l'interruzione c'è sempre qualcuno che mi interrompe vabbè però comunque siamo ancora secondi ci siamo fatti sfuggire l'occasione di uccidere il primo però mi sa che il livello 4 è l'ultimo livello dico però potremmo farlo con alcun altro da di tempo punto io non l'avete che esperienza bella stiamo diventando moltissimo grandi molti ecco siamo piccoli e mi sbagliavo non era l'ultimo livello il 4 ora dobbiamo crescere assolutamente mi sa che però adesso cresceremo più in fretta infatti già vedo due bambini siamo riusciuti in genere un sacco di solito ok va bene stiamo andando molto bene in questo video stranamente che di solito quando gioco non sono mai arrivato a questo traguardo è lo strano anche che non mi si tolga il busto che ho preso no 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 ragazzi no ragazzi no ragazzi no ragazzi vabbè raga non ci ricordate se non siete iscriviti lasciate un like un commento perché ci fanno sempre bene ricordate che la cosa più importante di condividere con i vostri amici a a a a